Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Bravo 50. V-Box Bravo 53, 5GHZ AMD 6 core, per la casa, ufficio, famiglia, multimedia, desktop, gaming gamer, PC, USB 3, 0 computer con Windows 8.1 OS, 3, 5GHZ AMD FX 6306 core processore. 16 GB off DDR3-1, 3, 3, 3MHz RAM. 1000 GB hard disk. AMD Radeon R7 242 GB scheda grafica. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.